Ragazzuoli, ciao a tutti. Oggi parliamo di questa follia, quantomeno in questa circostanza specifica qui, o quantomeno follia dal mio punto di vista, perché ovviamente ognuno in base anche a quello che è il proprio pensiero, si sta facendo un'idea di come si sta muovendo la Juventus sul mercato, dove magari certo fai anche investimenti abbastanza importanti, come può essere quello di Douglas Lewis, ma con un'idea chiara, un'idea specifica per quanto riguarda il presente in ottica titolarità e per quanto riguarda anche magari il medio-lungo periodo, dato che si parla di un classe 98, anno scorso titolare della Stonevilla, che ha fatto 10 gol e 10 assist e ha ottenuto la qualificazione in Champions, convocato al Mondiale per Club, no al Mondiale per Club, scusatemi alla Coppa America, nonostante non stia ottenendo un minutaggio esagerato, ma va bene, però c'è un'idea chiara riguardo quello che è l'investimento Douglas Lewis, con tanto di anche fidanzata al seguito perché oggi è ufficiale Alicia Lehmann, ma la notizia lanciata dalla Gazzetta dello Sport, quindi quando non si parla quantomeno di cose scritte da Giovanni Albanese, io lascio davvero un enorme beneficio del dubbio, ecco, una riflessione da farci su, sinceramente c'è dal mio punto di vista, poi, oh, magari si rivelerà una notizia del tutto veritiera e ci penseremo a tempo debito, ma dato che siamo in questo momento alla fase preliminare, mi sembra giusto semplicemente condividere quello che è il mio punto di vista, prima però ragazzuoli belli, come al solito, come da prassi, vi invito a lasciare un bel mi piace, perché lì per stare dalla parte del sicuro non si sbaglia veramente mai, e mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi che al di là di tutto non è che si stia parlando, no? Proprio di tutta questa banalità. Detto ciò, probabilmente anche voi avrete letto in giro sui vari social o magari direttamente sul sito della Gazzetta, con tanto di prima pagina, perché mi pare che la notizia sia finita anche proprio in prima pagina, di un interessamento della Juventus nei confronti di Tammy Abram. E dietro questo interessamento magari ci può essere la possibilità di vedere Federico Chiesa alla Roma. C'è comunque anche dietro questo interessamento la volontà da parte della Juventus di liberarsi pure di Arcadius Milic dopo essersi liberata anche di Moise Ken, che lunedì, dopo domani, farà le visite mediche per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina, a meno che non accada la stessa cosa che è accaduta qualche giorno fa con Barzagli, che sarebbe dovuto diventare allenatore dell'Under 16 della Fiorentina, ma poi a causa del suo passato juventino non si è fatto nulla. Quanto meno, così hanno riportato poi le reali motivazioni dietro questo, dietro fronte, sinceramente non lo so e mi interessa anche fino alla certa. In tutto questo è pure venduto Cagliorghe al Cruzeiro, quindi di fatto potenzialmente avevi quattro numeri nove o presunti tali, due le mandati via, l'altro è Milic in attesa di proposte ufficiali. L'idea della Juventus è quella di farsi almeno 10 milioni per quanto riguarda il cartellino del giocatore e che quindi rimarresti solo ed esclusivamente con Dusan Vlaovic. E viene da sé, se in una stagione con solamente campionato e Coppa Italia avevi Vlaovic, Ken e Milic, anno prossimo con cinque competizioni, quantomeno da rimanere sempre sui tre, da sempre sui tre. E si parla appunto di Tammy Abram, solo che dal mio punto di vista questa qui è un'operazione con poco senso sotto diversi punti di vista. Partiamo da quello più semplice e da quello più banale, la valutazione, perché metterlo in uno scambio con Federico Chiesa, presentare un'offerta cash e tutto quello che vogliamo, quanto lo valuteranno? Meno dei 25 milioni che tu chiedi a loro per Federico Chiesa io sinceramente dubito, anche qui secondo me siamo sui 25-30 milioni. Poi dopo su Twitter mi è capitato di vedere anche tifosi della Roma, pensare che Abram abbia una valutazione anche superiore rispetto a quella di Federico Chiesa e con i soldi del conguaglio, perché no, offriamo pure lo stipendio ad Adrien Rabiot. Dopo lì si parla di Narnia, si parla di altre cose e va benissimo comunque uguale, ci fai una grassa risata e va benissimo. Ma al di là di tutto, anche qui si può dire che si parla sicuramente di una cifra superiore, pari o superiore ai 25 milioni di euro. E sinceramente per come sta lavorando la Juventus non penso che investa una cifra di questo genere per uno che a tutti gli effetti è una riserva. O sarebbe una riserva? Già che lo è stato quest'anno alla Roma, ma purtroppo anche a causa di quel problema che gli ha condizionato letteralmente tutta la stagione è ok. Però non vedo tanto una Juventus che magari investe quei 25-30 milioni per una riserva. Soprattutto in un momento dove deve fare diverse operazioni anche per quanto riguarda proprio le titolarità dei giocatori. E quindi già è uno step non proprio del tutto banale. Insomma, poi c'è anche sempre qui il discorso legato allo stipendio che non è da mettere in secondo piano. Mi pare che Abram guadagni 5 milioni e 7 lordi ho visto da capologi e presumo che Abram usufruisca anche del decreto crescita. Però insomma si parla di uno stipendio abbastanza importante dove anche qui per quanto riguarda il contesto riserve non penso che la Juventus abbia tutta questa grandissima intenzione di spingersi su certe cifre. In più, anche qui, torni bene o male sempre a toccare gli stessi punti. Se va via chiesa tu hai bisogno di fare un investimento presumibilmente anche abbastanza importante per quanto riguarda l'esterno offensivo titolare. In questi giorni si continua a parlare di Sancho e va bene. Quello probabilmente nella testa di Giuntoli è uno dei sogni nel cassetto che fino a questo momento pare si stiano. Anche togliendo, vedendo che Frenturam, vedendo Douglas Lewis e va bene, però appunto. Torni su quel tema lì. 25-30 milioni per una riserva quando magari devi andare a prendere l'esterno offensivo titolare. Sinceramente mi stona, sinceramente mi stona un pochettino. Mi stona un pochettino, se posso essere onesto. Poi ci può essere anche tranquillamente il discorso legato alla futuribilità. In un'ottica di Juventus, sì per carità, competitiva ma anche e soprattutto futuribile. Un classe 97 che ha trascorso ciò che ha trascorso Tammy Abram. Quanto nel concreto, nel medio-lungo periodo si può ritenere un giocatore futuribile? Secondo me abbastanza poco. Sinceramente secondo me abbastanza poco. Giocatore di 27 anni, anche con un triennale, ti arriva in scadenza di contratto Kenya 30. E a meno che non faccia tre stagioni allucinanti da riserva, di idee di guadagno probabilmente ce n'è veramente molto, ma molto, ma molto poca, diciamo, via. E in più, per finire, anche per quanto riguarda la garanzia, sinceramente, perché se tu ti liberi di un giocatore che prima del crociato era allucinante, poi post crociato è sempre rimasto, no? La brutta copia di se stesso. Abram quel problema lì l'ha attraversato praticamente un anno e mezzo dopo Federico Chiesa. Insomma, non è una cosa proprio da poco conto. Tammy Abram di fatto ha saltato la stagione 2023-2024 proprio a causa di un crociato, dove poi ha fatto un pochino di minutaggio negli ultimi mesi e va bene, tutto quello che vogliamo. Però che garanzie reali ti dà? Tu entri nell'ottica di prendere Tammy Abram pensando che l'anno prossimo sarà sempre regolarmente a disposizione, vedendo anche proprio quello che è stato il trascorso di Federico Chiesa? Io sinceramente non lo so, ma appunto, attenzione, mi sembra superfluo dire che questa qui non è una critica a Cristiano Giuntoli perché certamente andrà a fare quest'operazione qui. È un mio pensiero che mi sono fatto semplicemente dopo aver letto la notizia lanciata dalla Gazzetta dello Sport. Credibilità? Boh, lasciamo un enorme beneficio del dubbio. Magari è 100% vera come può essere 100% falsa. Ma se mi si parla semplicemente di Tammy Abram in ottica Juventus, io tiro fuori tutti questi punti che sono quelli che ho tirato fuori con voi e che mi fanno dire, bah, non so mica. Ci sono diverse cose sinceramente che non mi tornano. Poi, per carità di Dio, si parla di un giocatore che nella sua carriera ha anche segnato, mi pare, che nella stagione in cui la Roma ha vinto la Conference League tipo abbia fatto quasi una trentina di gol tra tutte le varie competizioni. Quindi, per l'amor di Dio, si può parlare di un giocatore che se sta bene e se è messo nelle condizioni giuste, magari può essere un giocatore che alla fine della stagione il suo numero di gol e di assist te lo può anche portare a casa, ci mancherebbe altro. Ma in questo momento, per quanto riguarda, quantomeno le riserve, penso che la Juventus stia andando su profili un pochettino differenti a livello di futuribilità, a livello di costo annuo, a livello di età, a livello anche di garanzia. Garanzia magari non tanto a livello di gol e di assist che ti porta alla fine della stagione, ma quantomeno di presenza sì. Perché in una stagione dove giochi praticamente da dopo Ferragosto a nella peggiore delle ipotesi, fine giugno, una volta ogni tre giorni, praticamente, sai, avere della gente quanto più possibile a disposizione inizia ad essere un fattore. E se già pensiamo che Vlaovic, nell'arco di una stagione, le sue settimane fuori te le fa, ecco, quantomeno anche la riserva ti dovrebbe garantire quanto più minutaggio possibile. Cosa che Tami Abram è un'incognita, inevitabilmente è un'incognita. Non ci possiamo neanche troppo girare attorno. E per certe cifre, per me, può tranquillissimamente stare dov'è, a maggior ragione, se in tutto questo la Juventus ancora deve andare a prendere diversi tasselli in ottica titolarità. E un investimento del genere per una riserva... C'è un qualcosa che non mi torna. Voi però, ovviamente, ragazzuoli, fatemi sapere qui sotto la vostra. Con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare. Fino alla fine. Forza Juve!